Su un premio giornalistico che è stato offerto dall'azienda Estra per quanto riguarda la comunicazione nello sport. Alimentare l'educazione e la pratica sportiva è un'assunzione di responsabilità sociale di cui si fa carico anche il giornalismo. Per questo Estra S.P.A. Multi Utility a partecipazione pubblica in collaborazione con l'Unione Stampa Sportiva Italiana, Lussi, promuove il premio giornalistico Estra per lo sport, raccontare le buone notizie, un riconoscimento per i giornalisti che mettono in luce lo sport come agenzia educativa. Il premio nasce dall'esperienza del progetto Estra Sport Club, un nuovo modello di partnership tra sport ed impresa, che alimenta valori che travalicano la mera sponsorizzazione diventando fonte di condivisione e di reciproco coinvolgimento. 36 società, 5.587 atleti, 15 discipline sportive cosiddette minori giovanili, 8 province coinvolte, comprese tra Toscana, Marche e Abruzzo. Il bando di concorso del premio è stato presentato presso la sala Ennio Macconi di Palazzo Vecchio a Firenze alla presenza di Andrea Vannucci, assessore allo sport del comune. I candidati potranno inviare i loro elaborati entro il 27 gennaio 2017, la giuria attribuirà una menzione d'onore e dei premi speciali. È un premio che abbiamo istituito, è un premio nazionale, lo facciamo in collaborazione con Lussi, l'Unione Stampa Sportiva Italiana, e nasce dall'idea di coinvolgere i giornalisti sportivi in un progetto per testimoniare come lo sport sia comunità, agenzia educativa, valori, inclusione. È collegato a un progetto che noi abbiamo da tre anni dedicato alle associazioni sportive giovanili di sport cosiddetti minori, che si chiama Estrasport Club, quindi sta nelle corde e nei valori che Estra riversa sul territorio in cui opera. Lo sport è un fatto sociale di una rilevanza straordinaria, è una delle manifestazioni più belle dell'essere umano in società e evidentemente deve anche essere saputo raccontare, deve essere saputo far arrivare anche al grande pubblico. Io dico sempre che lo sport è bellissimo, è bellissimo, è bellissimo da raccontare.